Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. In questo video vi faccio vedere come realizzare un effetto meraviglioso con gel bianco, colore azzurro e glitter. Ecco le mie unghie senza manicure. Ho solo rimosso i prodotti precedenti. Voglio realizzare un quadrato preciso e allungarli un po'. Opacizzo velocemente una metà dell'unghia. Sgrasso con nail prep. Oggi faccio diversamente prima allungamento e poi preparo la zona cuticola. Uso queste due forms per allungare con il gel. Io sempre ho dubbi tra due misure 4 e 5. Questa è 5, più piccola, è stretta. Va troppo precisa, ma mi può causare fuoriuscita del prodotto e laterali che rimangono scoperti. Questa 4, preferisco di più, ma rischiamo di avere la curva sulla punta più larga rispetto alle nostre unghie. Quindi uso questa e poi vediamo come risolverla. Mi servirà una torcia LED per fissare due form. Io sempre la attacco con un manico posizionato così, in modo sospeso. Uso gel autolivellante, è monofasico, quindi non serve né base né primer. Metto un po' sulla punta, calcolando sempre la vostra lunghezza. Io non voglio lunghi. Guardate, prendo la formina, apro la luce e appoggio la formina sempre in modo dritto. Schiaccio un po', ma non troppo. Appena vedo che il prodotto fuoriesce, subito fisso in lampada. Qua serve a fare più velocemente, perché la luce si spegne in automatico tra 60 secondi. Ho fissato in lampada per 10-15 secondi e poi vado in lampada normale per 60 secondi. Adesso vado a tolgere il scalino con la punta di rimazione, che faccio veloce, ma potete farlo anche con la lima. Con la lima 180 faccio la punta laterale e la superficie, opacezzando anche l'unghe naturale. Con la lima 180 faccio la punta. E ora comincio a preparare l'unghia per la copertura di gel. Con un bastoncino di punta piatta alzo la cuticola. Prendo la punta fiamma e pulisco l'unghia. Vado prima a destra tutta le 5 dita con direzione reverse e poi a sinistra con forward. Dopo vado a tagliare la cuticola. Dopo vado a tagliare la cuticola. Adesso sono pronte s grasso con nail prep. Metto primer non acido poco poco solo sull'unghia naturale. E la base elastica qualsiasi come rubber per esempio. Io uso questi colori a crema ma va bene qualsiasi colore. metto sulla punta e sfumo un po', non deve essere perfetto. Poi ripeto il secondo strato. Metto questi glitter che sono trasparenti ma hanno un brillo oro verdino. Stendo un po' di gel trasparente e posiziono glitter. Stiamo attenti che saranno distanti dalla punta e laterale almeno di un millimetro. polimerizzo in lampada per 30 secondi. non popol grello. Ho nošanate la cuticola in lampada. Il pericolo è vero che si cerca di 14 euro le probably venne con il schiaccia. Dopo che ho fatto tutte le unghie faccio la sfumatura con il gel bianco latigianoso. Un strato di scivolamento e ci fermiamo, 5 mm circa distante dalla punta. Prendo una goccia e stendo sempre lasciando la punta senza gel. Aggiungo un altro po'. Polimerizzo 15 secondi e metto la pinza per avere la punta più stretta. Sulla punta uso il gel trasparente tisotropico, potete usare qualsiasi trasparente. E metto quanto manca, non troppo, però dobbiamo avere la struttura finita. Occhio, dobbiamo coprire bene il glitter e fare in modo che c'è il spessore di gel trasparente per coprire bene tutti i glitter. Sgrasso e limo un po' la superficie per avere la struttura perfetta. Pulisco bene della polvere e copro con il top e sigillo bene la punta. Ecco il risultato, belle, delicati, mi ricordo del mare, combinazione di bianco e azzurro è proprio perfetto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like e noi come sempre ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao! Ciao! Ciao!